Favorire la competitività delle piccole e medie imprese è l'obiettivo dell'Apre, ovvero l'Agenzia per la promozione della ricerca in Europa, del CNA e della provincia di Roma. Le parti hanno firmato uno protocollo di intesa questa mattina a Palazzo Valentini durante la conferenza stampa. Il CNA ha illustrato al presidente Zingaretti i dati sulla produttività registrata dalle piccole imprese provinciali nel 2011. Un quinto delle aziende italiane ammesse al bando per i finanziamenti europei per la ricerca sorgono proprio sul territorio della provincia di Roma.